eccoci guardiamo un pochino eccoci qua allora aspettiamo che arrivi qualcuno si comincia questa seconda parte di costruzione di swing bait chi c'è? scrivete pure nei commenti almeno si fa anche due chiacchiere insieme intanto prepariamo un attimino facciamo un po' di posto eccoci qua scrivete nei commenti almeno vedo che ci sono qui siete si può cominciare chi c'è chi c'è chi c'è allora via cominciamo allora la volta scorsa eravamo arrivati a questo punto praticamente avevamo sagomato i due pezzi di legno di samba da un centimetro incollati avevamo tracciato le linee avevamo fatto le stremature e poi avevamo fatto i tagli per le sezioni ma senza chiuderli allora come stasera che c'è da fare stasera anche se sicuramente non finiremo stasera dobbiamo completare la sagomatura fare i fori per gli anelli principali e fare i fori e comunque gli scassi per quella sarà la piombatura e vedremo un attimino poi come come la faremo perché sarà un po' particolare quando abbiamo fatto questo dobbiamo completiamo i tagli delle sezioni questa chiamiamo le sezioni e poi faremo le imposteremo le giunture a cominciamo tanto mi metto mascherina per la polvere occhiale perché sennò non ci si vede allora facciamo quanti allora cominciamo a fare le lisciature dobbiamo togliere gli angoli stondarli si fa prima e questo con queste dimensioni un po più grosse si comincia con la lima a legno e poi eventualmente si si usa la carta passiva ora la metto in morsa per avere un punto d'appoggio un punto d'appoggio io semplicemente stonderò gli angoli non farò sagomatori particolari su questo se avete domande fatele pure sulla chat come vedete come ho fatto appunto completato i tagli perché la sagomatura conviene tenerla conviene farla con il legno tutto intero altrimenti viene male se non abbiamo punti di riferimento faccio un po' sul muso non vedo domande stasera tutti bravi tutto ascoltato allora poi chiudo con termine fuori dalla morsa questa fase si poteva fare anche con cutter però io sono non sono abituato preferisco farlo con l'anima anche perché poi mi sono certo e poi mi taglio e quindi si fa senza controlliamo se siamo stati abbastanza simmetrici guardiamo di correggere il problema sulla coda ora la stondo un pochino perché piace un po' più stondata ma tanto mi ha soltanto un discorso estetico allora su questo tipo di lavorazione non so se vi ricordate l'altra volta sono due pezzi di legno incollati da un centimetro quindi si riesce a capire esattamente dove è il centro perché se così non fosse le lavorazioni si faranno dopo andavano fatte prima quantomeno andavano segnati i punti precedentemente allora a questo punto levato il grosso con la lima prendo un po' di carta abrasiva abbastanza grossa e stondo ripulisco diciamo e completo la stondatura degli angoli però considerate il grosso è già stato fatto dall'anima quindi qui si tratta di lisciare e omogenizzare un pochino il bordo cerchiamo ovviamente di controllare sempre un po' di essere omogenei di essere simmetrici ora eschi grosse in questo modo ci 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 perdonano anche degli errori però magari proprio per un discorso di estetica cerchiamo di essere più precise possibile ho nessuna domanda stasera vediamo se funziona vediamo se funziona si sembra funzionare poi quando abbiamo fatto con la carta abrasiva più grossa abbiamo fatto la lavorazione vera e propria con carta un pochino più fine lo lisciamo vediamo anche se non sarà la lisciatura definitiva perché vedremo dopo però intanto mettiamo una bella levegata alla superficie ecco ecco allora adesso è gommatura e comincia già a prendere l'aspetto di un pesciolino allora a questo punto dobbiamo cominciare a segnare dove fare i buchi per le gli occhiali principali che sono quello di testa di pancia e di coda ecco io ho fatto una dima in realtà avevo fatto anche la dima in policarbonato ma poco fa è saltata è cascata a qualche parte non la trovo meno male ho ancora quella di carta e vado a segnarmi quanto meno dove va posizionato l'anello di pancia il centro lo so perché c'è l'attaccatura delle due sezioni di legno lo segno il centro è praticamente il punto di attacco è a 7 cm e mezzo dalla punta del muso allora cominciamo a prepararsi per fare i furi segniamo i punti di testa l'attacco di testa è praticamente qua quasi in cima io ho fatto calcolo che l'anello con la curvatura dell'anello verrà grosso perché lo faremo grosso questo lo vedremo che combaci poi più o meno con la punta della testa e un anello di coda al centro della coda questi furi siccome come abbiamo detto l'altra volta faremo degli anelli a vite di con acciaio da rigido da un millimetro e due che ora li faremo sembrava funzionare molto bene grazie in balza senza dividerla con paletta e piombatura a modo mio in base a dove si si va bene ma fate bene a sperimentare questo è è un'idea di 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 lavorazione poi ovviamente ognuno deve fare come come è giusto gli esperimenti e faccia poi le sue esperienze allora ehm fuori questo punto questa c'è un 1 e 2 anello fatto in questa in questo modo il buco da fare è circa 3 mm prendo il ciafano preparo la punta a in questo modo da il 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 in questo modo allora una cosa importante questi fori andando in testa in pancia in coda come lunghezze io le faccio lunghezze differenti perché perché quella di quella di testa che dovrà poi quelle fare il lavoro maggiore lo la faccio un po più lunga in modo che mi mi porti anche peso in testa quello dell'anello di pancia ha eliminato all'altezza quindi fra una lunghezza base quello di coda devo fare un un foro che poi mi permette anche di inserire gli snodi ora non sono tagliati ma gli snodi che faremo saranno incollati non hanno armato l'intera allora io ovviamente mi sono scritto i vari punti se lo ritrovo ecco qua praticamente ecco qua anelli testa 30 mm pancia 24 e coda 21 e non abbiate paura che che non rega con regla trazione perché basta perché poi dopo vedremo come incolleremo ecco in genere segno sulla punta le distanze ora questo l'avevo già usata quindi ce l'ho già segnata e cominciato a forare questa guarda un pochino la direzione in cui voglio che venga queste cose che andrebbero a fare si fanno bene con il trapano a colonna ma siamo poveri morti di fame e non l'abbiamo ecco ok già va ecco ecco qua ecco qua qui sarà detto la distanza ecco qua qua ecco qua ok ecco qua esiziona ho 20 segni ecco mattina Gesù, Giuseppe e Maria ho 20 segni Essa metà usata vediamo è ecco o Woi ora è quello giù Poi a questo punto io procederei con la divisione delle, anzi si è saltato un passaggio prima e taglio la paletta, il taglio della paletta viene fatto in questa posizione che ho segnato sulla mia Dima che è a circa un centimetro e mezzo, comunque alla base della punta della bocca, qua ci si segna, in genere questo taglio la paletta lo faccio prima sulla sezione quando è piatta, poi faccio vedere alcune cose, ho segnato il punto, questa è una lama a becco tondo è più o meno lo spessore poi vedere che sarà la paletta ecco fatto, a questo punto chiudo i tagli delle sezioni, operazione abbastanza delle case quindi smonto questa lama, ci metto la lama seghetto a ferro, se avete domande ditelo eh, via via, se avete dei dubbi o qualcosa per chi si sa dovrebbe essere semplice perché il taglio che ci ha effettuato ci fa da guida, arriviamo alla metà la metà preferiamo con calma eh, perché qui non c'è da fare le corse e qui non c'è da fare le corse, non c'è da fare le corse, non c'è da fare le corse, ecco fatto, abbiamo effettuato i nostri tagli, a questo punto li... ehm... 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 gli schiamoli ottimizziamo perché ovviamente facendole a mano in questo modo il taglio non sarà mai precisissimo, però diciamo che... ehm... cioè dobbiamo essere abbastanza precisi ma la... ehm... la correzione è abbastanza semplice, ovviamente se siamo stati... non abbiamo commesso troppi errori. Un trucco consiste nel prendere con una lima tonda andare sul centro e arrotondiamo leggermente proprio la punta. Vediamo dove è centro perché abbiamo le due valve di legno e poi lo lisciamo. Come in questo caso qui c'è un errore, vedi questo qui è un pochino più alto ma poco ci interessa perché lo limiamo il capello. Vedrete che poi dopo quando è montato andrà a sparire, si verrà proprio poco poco questo errore qua, ma proprio perché l'errore è millimetrico, anzi meno di un millimetro. Ecco, fatto. Questo qui c'è un centro qui, ok. Ok, qui poi leggiamo. Andiamo tra le V, si limano un pochino i residui del taglio, si guarda di aggiustare se ci sono state dei piccoli errori di proporzione, perché ripeto, falli a mano, è quasi impossibile essere precisi al decimo di millimetro. Proprio perché abbiamo fatto un due valve di legno su vari centri è facile. Passiamo a questo. ecco qui abbiamo fatto un errore con millimetro. ecco qui. ecco qui. ecco qui. ecco qui. ecco qui. Sezioni, sezioni fatte, a questo punto si può procedere, ah no, mancava una, ma questo sezioni, prima di fare montare queste procediamo a, intanto va finito di realizzare gli occhielli a vetri, quindi prendiamo il nostro acciaio da un millimetro e due, prendiamo, prendiamo pizza, becchi e tondi, questo non basta ma ci siamo ancora, un millimetro, un po' di acciaio, se no, ecco, allora, uno l'abbiamo fatto, ne mancano due di anelli, allora, pinza becchi tondi, è sparita, eccola qua, come ce l'ha visto, quest'anello si fa prendendo un pezzetto di filo, lasciandolo dritto, un pochino più della lunghezza ci serve, piego, ci ostruisco l'occhiello abbastanza largo, il pinnello è chiuso, largo, a questo punto faccio le spire per, per la pseudo filettatura, larga così, dopo andremo a incollare con, con la colla e possidia più componente, abbondante, quindi la colla infilerà tra queste spire, si andrà a saldare sul legno, qui sopra e qui la plastica della colla e possidia si indurirà sopra e farà come se fosse una filettatura specifica per questo incollandola, quindi è fisicamente impossibile che escono fuori, quest'anello facciamo, guarda, parliamo, guarda, legno, guarda, legno. occhelli fatti prima di procedere con tutto il resto facciamo anche tutti i fori per la piombatura spiego un attimino perché particolare allora questa swing bait qua diventa comunque un aggeggio con quando avremo fatto montata un aggeggio da 20 centimetri con questo legno che è 2 centimetri se vogliamo farla affondante comunque slow sinking questo affare deve pesare 120 grammi almeno 120-180 grammi con l'occhio guardandolo sopra il volume se io prendo la bilancia e pesa quant'è pesa o meno quant'è è circa 35 grammi di legno va aggiunto quasi un etto di piombo inserire un etto di piombo qui dentro non è facile un po' meno di un etto via per essere sinceri comunque non è facile perché se facciamo anche gli scassi gli scassi soliti spazio diventa un macello poi richiudilo togliamo stabilità e tutto quanto strutturale intendo e tutto quanto e io ho trovato cioè lo faccio in questo modo non è che ho inventato nulla di che però praticamente foro in punti precisi che ho guardato in base alle equilibratore che devo fare faccio dei fori lunghi 2 centimetri e ci spessi 6 millimetri perché perché 6 millimetri perché in vendita c'è il piombo da 6 millimetri e 6 millimetri pesa tanto facendo fuori da 2 centimetri ho una standardizzazione a calibratura precisa perché a questo punto sapendo quanto pesa poi il cilindretto da 2 centimetri vuol calcolare quanto metterlo non solo ma questo swing bait è tanto efficace sia affondante sia galleggiante quindi se è galleggiante non faccio altro che non fare due fori nel caso specifico i due ultimi qua e non mettendo due cilindri da 2 centimetri più un po' 6 millimetri questa mi diventa appena galleggiante lavoriamo ancora più galleggiante che non mi piace perché insomma secondo me non fai che deve fare ne tolgo altri due e quindi senza dover fare come spesso fanno sui cerchi cioè forare e colarci il piombo ottengo la stessa cosa non colando niente e facendo semplicemente dei fori che trafano allora dove farli me li sono segnati comunque li vedete qua intorno all'anello di pancia in questa zona perché? perché è il pezzo dove c'è più legno e è intorno al baricentro dell'artificiale poi nelle sezioni di coda che galleggerebbero abbastanza in realtà poi con i doppi snodi e quindi l'acciaio dei doppi snodi l'acciaio dell'ancoretta dell'anello di coda più l'ancoretta parlando di luci non sarà mai un'ancoretta piccolissima lo bilancia portandolo leggermente a curvarsi in base in modo che quando lo fondamento sia tutto regolare allora dove fare? dopo poi farò un video tutorial su come costruirla e ci metterò tutte le misure precise in parte ve l'ho detto e comunque io mi segno il punto centrale del buco ora questa qui la faremo galleggiante quindi non farò il foro più i due fori più verso la coda allora quindi Sandra ha fatto il foro qua no questo se l'ha detto di no quindi il foro qui il foro qui il foro qui quindi va il foro qua il foro qua il foro qua e il foro qua ok allora procediamo prendiamo la punta da 6 minuti qui andrebbe fatto davvero col trapanacoon cerchiamo di essere precisi uguale sono scordato di segnare due centimetri ma dovrebbe essere questo qui perché l'ho fatto l'altra volta e mi è rimasto è un po' di più ok è un po' di più 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 allora poi qua in un attimo mi dovrei vorrei ricordare di venire qui è un po' di più è un po' di più ho fatto male accidenti un biscotto ci dovrebbe ricordarsi di caricare il trapano ogni tanto questo punto non abbiamo forato per quanto possa sembrare esterno non abbiamo tolto resistenza strutturale perché poi dopo il piombo ci va preciso e anche se con l'anello che in realtà arriva nel mezzo ma per caso dovessimo sbagliare o comunque andare a strisciare sul piombo in realtà meglio perché poi va a far presa sul metallo di traverso quindi c'è una resistenza ancora maggiore in trazione dell'anello aspetto domande scrivete allora buonasera allora fatto questo dobbiamo incollare gli anelli riprendiamo il nostro manoletto con le misure in modo da non sbagliare quindi 30, 24, 21 prendiamo il pennarello e facciamo il pennarello non riposca nel numero di macchie quindi facciamo 30 30 24 e 21 20 insomma 21 20 ok va bene non scappa niente taglio con le tronchesi al punto in cui avevo segnato se avete dubbi lasciate un millimetro in più poi a tagliare sei sempre a tempo se tagliate colto magari ok questa è più lunga cominciamo a presentarla vedete se abbiamo fatto prima di incollare guardiamo se abbiamo fatto fuori i fuori giusti non è mai sforza non è mai sforza no non sa che l'ho fatto a bus che l'ho sciotto guardiamo infatti come ho detto non c'è rimasto il residuo di segatura sicuro infatti c'è sempre una cosa che cazzo c'è che cazzo sai che ho fatto male l'anello la furia capisco cosa c'è bene ecco ecco dopo si incolla però il suo effetto lo fa la pancia vediamo se ho fatto la chitta a pelle anche qua ecco sbagliato ho preso la punta più piccolina invece quella precisa vabbè una rispetta quella un decimo più piccola quanto è spesso il filo degli occhielli eh l'ho detto prima questo qui degli occhielli è un millimetro e due di acciaio di acciaio da saldatura TIG per la precisione questo è un AIS 304 quindi è molto rigido ma non ragazzi deve aver sbagliato davvero a prendere misure mi sa che ho sbagliato punta questa è quella che è un metro e due decimi più corta cioè due decimi più più piccola ci sento ragazzi sto ciecato ragazzi da vecchiaia dopo si incolla non è ora non me l'ho presentata per capire questo è l'anello di coda ma se tanto mi dà tanto non c'entrano nemmeno questo ok per fissarli per fissarli si usa una colla per componente se non mi è seccato tutto se non mi è seccato tutto cosa sarei probabile ci dovrei avere allora prendiamo un supposito supporto eccolo qua servito le anelle questa esca viene florata l'ho detto prima si può fare in tutto in modo in base a quanta piombatura inserisci questa qua la faccio la faccio galleggiante o meglio così viene appena galleggiante galleggia ma non è che sia se lo vai giù e ritorna su piano piano ma le misure del legno l'hai più messe le misure del legno cioè della sagoma o la misura del legno il legno sono due sono due sono due parti da un centimetro quindi la spessore totale è due centimetri le misure le metterò sul video tutorial cioè le misure esatte poi nel video le ho spiegato le ho dette poi le esatte come schemettini tutto le metterò sul video tutorial quando uscirà il video tutorial di questa esca non è secco ma ci siamo quasi vicino cioè secca intolito ma questa oh madonna intanto facciamo questa se no dovremmo far dire in mezzo per chi si secca vado mescoliamo è molto densa questa non basterà per un accidente intanto se no si durà troppa fatica allora vinciamo di testa ecco ecco allora ora questa questa gomma si questo collo si indurisce abbastanza velocemente quindi dobbiamo queste che ho io allora io cosa faccio la stendo in modo a coprire completamente la felettatura e quindi la vo a passare e inserisco ecco 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 uno due mi sa sul terzo devo rifare rifare rimescolarla ma va bene deve essere abbondante ricoperto tutta la filettatura perché come l'abbiamo fatta non fare in modo che la resina passi rimanga dentro le filettature si indurisca diventa plastica in modo che sigilli completamente ovviamente questa qui essendo resina epossidica non teme nemmeno l'arco quindi a differenza della cianacrilica anche se poi ci arriva acqua la sigilla automaticamente ora qui dobbiamo rifarla ne facciamo un altro pochino il problema è di sistemare ora qui c'è un casino perché per due motivi uno, dopo vi farò vedere è che stavo sagomando parecchie cose e quindi ho la scrivania il piano di lavoro molto occupato da tutte le cose quelle sagomature sono a mezzo a mezzo e poi come dicevo mi sto trasferendo di casa quindi sto cominciando a trasferire quindi ho mezze cose buttate all'aria appoggiate in attesa di scatolarle perché stavo iniziando a vedere anche come rimettere quindi appalto il casino c'è anche per quello allora prendiamo questo uso la colla potevo usare anche direttamente la resina epossidia quella si dà per copertura per incollarlo però è molto liquida e mi rimane un problema farla poi colare dentro il buco in modo da riempirlo invece in questo modo questa è densa la metto direttamente sull'occhiello quando lo metto mi rimane dentro e lo incolla tutto perfettamente ecco ecco ok ecco ecco io ho perso un stiluolo da 10 eh 10 kg non saprei nemmeno quante sia quante sia ma in genere una cosa che parecchi cioè questo è un retaggio di vecchia di vecchia memoria che i pesci si pesavano il peso di un pesce non conta o meglio non è indicativo esatto delle dimensioni perché il peso varia molto dalla dieta dalla stagione dal periodo i pesci si misurano sempre i pesci si misurano e basta tanto non li mangiamo mentre qui adesso qui lascio qui che si secchi voglio farvi vedere a parte il casino che c'è qua il casino c'è qua perché aspetta le poche questo se non mi rimane il biscotto perché ho sfruttato il mio genero che si è ha comprato il traforo elettrico e ci sono fatto un po' di sagomine e ora l'avevo qua perché le dovevo sistemare un po' di sagome varia questo è il swing bet eccetera tra l'altro ho utilizzato questo qui è un altro legno non è samba ma è un ma è tiglio tiglio che mi regalò un monte di anni fa e tra l'altro ci ha tagliato un po' arte ma è un amico mauro mauro e ora lo sto utilizzando il tiglio è un bel legno bel legno nel senso che si fa molto bene le incisioni i branchettini vengono spettacolari l'unico tra virgolette difetto è che è più duro della samba e si dura fatica a lavorarlo a mano ma si dura fatica però come poi come tenuta e tutto quanto è meglio fenomenale allora che dicevi Giovanni va beh si tra poco vedremo il nuovo laboratorio si il problema è quando tra l'altro volevo dirvi che nella prossima settimana non so che appuntamenti rispetterò perché sono incassinato a bestia sono incassinato sia per per il trasloco spero perché c'è ancora degli intoppi tra virgolette brutratici e e poi perché c'è un lavoro extra anche extra da fare che mi impegnerà che mi impegnerà tanto quindi dalla prossima settimana fino alla fine di maggio non so quanti appuntamenti poi rifaremo perché sono veramente messo male comunque i piombi i piombi per fare queste cose pesanti questo piumbo è fenomenale è fenomenale perché è il famoso piumbo da 2 da 2 millimetri noi abbiamo fatto 6 fuori e quindi facciamo 6 pezzi da 2 centimetri vediamo il righello e segniamolo io su questo sono abbastanza preciso non tanto perché mi interessa sapere i grammi perché poi mi segna le misure però faccio misure precise quindi riesco a rispettare i pesi 2 4 altri 2 dove vai fatto 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 per tagliarlo preciso e se taglia bene fidi già quello lato meno dove si compre cosa il piombo io in genere anche nei negozi di pesca ce l'hanno o comunque nelle rivendite di questi materiali in realtà questo me l'hanno regalato quando un mio amico lavora insomma traffia sul fornitore industriale però so che si trova in giro si trova anche su internet metto allora per chi fosse interessato e un due centimetri di questo aggeggio pesa diciamo 8 grammi e mezzo circa 8 grammi ora che sta bilancio non è precisissimo comunque pesa circa 8 grammi quindi in questo modo mettendone 6 mettiamo se dovrebbe essere 64 grammi ora non lo metto ora sto presentando se ho fatto il foro fuori giusto dopo lo metteremo allora questo io lo lascerei così che ore sono le 10 tra l'altro ho fatto un attimino un peggio a questo punto il passo successivo è infilare il piombo ora io si può anche non bloccare o se no se volete ci mettete una gocciolina di attack ma non è fondamentale perché tanto poi dopo diamo l'impermedializzazione io lo do con la resina epossidica e quindi andiamo poi a chiudere tutto cioè se volete incollarlo bene se no non è non cambia minimamente niente proprio zero strendo questo fiumbo andiamo a pesare tutto quanto a questo punto di 30 grammi siamo passati a siamo passati a 95 praticamente alla fine con con tutto il anche gli anelli gli anelli di 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 collegamento che saranno che saranno quattro due davanti e due dietro per avere un bloccaggio quindi un nuoto a swing bait non a snodato alla fine quest'esca passa passa letto netto netto poco più piombi solo la parte avanti sì ma questo l'ho già detto prima piombo solo la parte avanti perché su queste sessioni che sono molto più piccole quindi c'è molto meno legno c'è l'acciaio del del degli snodi che sono quattro sono quattro così e quindi porti il suo peso più c'è l'ancoretta in fondo e si sta parlando di luci quindi l'ancoretta sarà generosa come lo split ring generoso che sono pesi quindi la parte dietro viene equilibrata da quello da quello lì questa parte qua considerando che il peso noi l'abbiamo messo sul baricentro intorno al baricentro questo verrà giù pari più vado dentro con la plombiatura dell'antiliciane non perde stabilità del nuovo torque allora questo è un trucco la risposta è sì sì ma è quello che si cerca perché in realtà non lo destabilizzi del tutto perché comunque essendo che considera che l'ho messo i due centimetri guarda l'ho messo il il cosa due centimetri arrivo qua quindi comunque non l'ho più non l'ho non sono arrivato in cima c'è comunque una parte più alta galleggiante comunque parte dal basso quindi questa artificiale comunque in acqua è assettata se io sposto se ora non c'è tutto qui vabbè facciamo finta se te tracci una linea immaginaria che va dall'anello di testa all'anello di coda ovviamente spostando massa sopra lo destabilizzi ma questo cosa vuol dire vuol dire che per farlo muovere la paletta deve fare meno cioè deve fare meno lavoro quindi l'artificiale si muove di più ed è il trucco per fare artificiali super pesanti cioè spostare tra virgolette cioè non spostare in alto ma fare in modo che dal basso arrivi anche più in alto in questo modo parte del peso viene spostato sopra questa linea l'artificiale si destabilizza destabilizza cioè non destabilizza nel senso assoluto perché comunque l'assetto è corretto però è sì più instabile però essendo più instabile ci vuole meno forza per farlo muovere appunto perché è instabile cioè se prima per fargli fare questo movimento questo movimento ci voleva che ne so una forza di che ti posso dire 50 grammi sulla paletta distabilizzando invece 50 ce ne vuoi 30 ce ne vuoi 20 è comunque assettato perché rimane in questo modo però per fargli questo movimento la paletta deve fare meno fatica quindi ti basta ancora una paletta più piccola esatto 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 ovviamente va tutto calibrato portato ho fatto un po' di prove eccetera perché non è così ora io l'ho detta facile facile ma proprio facilissima non è però comunque ripeto la 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 logica la teoria è questa proprio perché la linea di trazione è l'anello di testa e questa mi diventa la mia linea longitudinale e spostando appunto peso sopra sopra fare in modo che ce ne sia più sotto ovviamente ma ce n'è anche sopra il movimento di questo diventa più semplice e questo è un trucchettino perché molto si dice partano dal presupposto la fiumatura in basso sì è giusto e infatti si mette in basso perché bisogna settare l'artificiale però attenzione perché se un qualcosa è stabile stabile per destabilizzarlo e il movimento dell'artificiale è una destabilizzazione c'è bisogno di molto più forza quindi va valutato sempre ora su un'artificiale ti posso dire che è così cioè non è che la piombatura è sotto che tu la sposti di mezzo ti sposti di due millimetri più in alto le belle fuori dalla linea longitudinale a questo punto questo ribalta quindi la piombatura la metti in basso e rizzati non è che puoi fare altre cose ma su un artificiale che appunto deve essere super affondante a questo punto può convenire fare un cappellino un pochino più alto e sposti più verso l'alto un pochino più verso l'alto la piombatura Michele perché poi tra l'altro c'è una discussione con un ragazzo su internet secondo me non ha ben chiaro o meglio non ha ben chiaro il movimento di rollio tu lo puoi ottenere in vari modi in vari modi ora aspetta che guardiamo prendiamo così cioè cosa è dato il movimento di rollio cosa è dato il movimento di rollio in genere viene innescato dal dalla turbolenza di del movimento dell'acqua quando l'attiviciale affonda se la piombatura è tutta in basso concentrata in basso con magari un fondo piatto comunque si ha un effetto bandiera cioè a presente il tipo che ti posso dire che appunto metti un sasso con 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 una un telo dietro che lo butti nell'acqua il telo si muove si muove dentro perché a un certo punto viene tirato giù e questo e questo si sventola in caduta questo è un modo l'altro modo è appunto non mettere il piombo proprio a filo pancia ma mettere un cappellino più alto questo modo lo distabilizzi e quindi facendo prendendo di riferimento la linea longitudinale se piombatura che la metti sotto ma praticamente immediatamente sotto la linea longitudinale lo destabilizzi quindi basta poca forza per in questo in quel caso si è un movimento di rollio perché l'artificiale dondola sul sul suo asse quindi ma alla fine il discorso è sugli artificiali soprattutto su su un minno che andrà a lavorare in caduta tipo filibustieri non fatte 20.000 la differenza è talmente poco è piccolo praticamente non c'è differenza cioè piombola un basso piombola un po' più alto tanto quello che lo fa oscillare è quanto pesa e oscilla uguale io cioè non mi farei tanti discorsi poi ovviamente se lo fai bene ti oscilla con poco piombo oppure per farlo oscillare ti ci vuole bisogna appesantirlo in modo che va giù e la forza la forza del destrociale nell'acqua è di più e quindi riesce a farlo a farlo rullare hai detto cappellino quando hai detto cappellino allora ragazzi per stasera io non andrei anche perché ho un impegno da finire la roba per i documenti per la casa a questo punto noi abbiamo fatto tutta la socomatura siamo praticamente a fine va fatto la paletta e il posizionamento degli anellini che è abbastanza importante dietro c'è anche qui una logica farà la prossima volta cerco di farla martedì almeno si chiude e poi se c'è altri impegni almeno il discorso è chiuso poi basta domani dicevo domani se volete quello c'è un video che è probabile che non piacerà a molti non lo so ma l'ho voluto fare uguale nel senso che è teorico è teorico dove spiego i fondamenti per far muovere un artificiale un min con la paletta cioè fondamenti nel senso cos'è che mi permette di far muovere un pezzo il legno legno è un pezzetto di cosa cioè quali sono le leggi fondamentali da considerare è un po' strano cioè è un po' strano mi era stato consigliato di fare anche un altro modo ed è giusto come mi hanno detto cioè dai degli esempi e dice su questa sagoma si muove perché è così vanno messi o sai eccetera però non 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 ti do la teoria globale quindi se cambi sagoma te dopo non sai qual è il motivo invece in generale se ti dico il motivo cioè quali sono le cose fondamentali poi una volta capito quello qualsiasi sagoma ti faccia appia di fronte riesce un attimino a capire i dubbi i problemi o come farla muovere poi quindi molto ovviamente è teorico quindi qualche uno si farà due palle con un cesto e lo dirò subito però anche perché è probabile ma questo è un mio vizio quindi magari nei commenti se se lo faccio scrivetelo cioè che magari rischio di utilizzare termini troppo di fisica cioè di perché ora io non sono fisico non sono un non ho fatto studi di quel genere però sono sempre stato appassionato e quindi tendo a volte a utilizzare dei termini un pochino che magari possono risultare ossici quindi magari se lo scrivo cioè se lo dico non capite scrivetelo nei commenti almeno poi si chiarisce perché è un pochino un po' di principi fisici vanno detti perché non alla fine è fisica quindi non si può andare contro la fisica se si sa e si segue e si riesce a farli funzionare comunque allora con questo io stasera vi lascio perché sono stanche un po' da finire appunto un po' di documentazione di documenti burocratici e niente se domani c'è questo video se volete seguitelo e eventualmente anche condividetelo e se non siete iscritti iscrivetevi ultima cosa ok riprovare a fare questa sui in samba la tenuta di anile legge lo stesso guarda questa è samba questa è samba questa è samba se mai vuole dire balsa no la balsa gli anellini balsa gli anellini scordatelo invece dalla samba in poi tu puoi fai che tu vuoi su questa puoi essere incollata poi in questo modo incollata tu puoi andare direttamente a assiluri non c'è fisicamente modo che o meglio ora assiluri meno nel senso ma più che altro è per questo è l'ultimo anello di istrazione che luccio ingoia eccetera però comunque un pesce può arrivare a 10 kg invece su un sluro per come mangia e per la conformazione della bocca oltre al peso è che è molto probabile che magari mi rimanga al contrasto un pezzettino ora la tenuta è talmente tanta perché considerate dentro poi c'è un acciaio in fila che arriva qua un altro acciaio che lo segue sopra e sotto e dentro tutta la resina che rinforza la struttura però però insomma scusa il tiglio cioè non è quello con cui abbiamo costruito questa ho detto quest'altra sagoma l'ho fatta in tiglio perché questa che abbiamo fatto insieme è samba e e niente comunque come tenuta su siluri in genere ma su questa sezione perché guardate ora si sta parlando di si passa di palo flask allora sto facendo questo in realtà non diventerà una sim ma diventerà un crancone per trainare a luci ora in questo caso faccio armatura passante ma semplicemente perché mi è stato regolato questi pezzi di legno già con il taglio ventrale quindi fu prima la matura passante ma se fosse cioè se non ci fosse stato il taglio qui ho usato tutti i anellini e la userei tranquillamente a siluri perché un pezzo di legno così intero di questa duretta non esiste perché uno dice l'anellino regga l'anellino in trazione reggano quintali quindi non c'è verso che si sfili l'unico problema è che rompa il legno su qualsiasi esca che avete usato che non siano plasticoni cinesi non si duro quante volte vi ha spezzato a mezzo questo spessore mai te lo dico io mai con questo vi saluto perché bisogna che vada a finire fino alla prossima si spera martedì almeno terminiamo tutto quanto e poi guarderò di fare i video storia però di questo ripeto si allungheranno i tempi buonanotte a tutti grazie di aver seguito alla prossima ciao a tutti buonanotte grazie a tutti